Le muse, si sa, sono quelle divinità che ispirano gli artisti e gli artisti sono quelle persone che sanno intendere il linguaggio dell'universo, che secondo qualcuno è scritto in forma matematica, triangoli, cerchi, quadrati e altre forme geometriche. Per questo mi trovo in un chiostro ottagonale, via di mezzo tra un quadrato e un cerchio. Da sempre gli artisti sono il tramite tra la materia e lo spirito, tra gli uomini e le divinità. Ma anche nelle storie delle divinità ci sono dei lati oscuri, soprattutto quando ci sono di mezzo gli uomini. Ecco, vi racconterò alcuni misteri legati alla storia dell'arte. Otto storie in otto puntate, come i lati di questo chiostro. L'illusione è qualcosa che ci porta lontano con il pensiero, aprendoci a mondi immaginari come un film o come i quadri di un grande artista. L'illusione però gioca anche con la realtà, influenzandola, senza che noi ce ne accorgiamo. Insomma, l'illusione è qualcosa che a volte inganna e a volte fa sognare. E a volte tutte e due le cose contemporaneamente, come in questa storia, che è la storia appunto di una grande illusione, che comincia con una domanda scritta sulle pagine di Life, una delle riviste più importanti d'America. È lui il più grande pittore vivente degli Stati Uniti. È il titolo di un articolo dell'8 agosto 1949 su Jackson Pollock, uno degli artisti di punta di quegli anni, che dopo questo servizio diventerà famoso in tutto il paese. La rivista Life manda la fotografa Martha Holmes a immortalare Pollock seduta a terra con i colori in mano, oppure davanti ad una delle sue grandi tele con la sigaretta in bocca. Perché Pollock ha trovato un nuovo modo di dipingere, action painting lo chiamano. Sembra una danza, di colori, attorno alla tela. Fino a quel momento Pollock era un artista abbastanza conosciuto nel mondo dell'arte, anche se faticava a mantenersi con le sue opere. Dopo quell'articolo la sua carriera artistica avrà una svolta improvvisa. Da quel momento Jackson Pollock sarà il pittore contemporaneo più conosciuto negli Stati Uniti. Ad insistere per la realizzazione di quell'articolo così importante ci sono anche direttori e membri del consiglio di amministrazione del MoMA, il Museo di Arte Moderna di New York. Non ci sarebbe niente di strano se non fosse che nel consiglio di amministrazione del MoMA ci sono diverse persone che collaborano con la CIA, a partire da Nelson Rockefeller, il figlio della proprietaria del museo. Nelson Rockefeller viene nominato presidente di rappresentanza del consiglio di amministrazione del MoMA quando ha solo 30 anni nel 1939 e da sempre si è messo in prima linea per rappresentare quello che ha sempre chiamato il Museo di Mamma. I servizi segreti possono influenzare la vita culturale di una nazione attraverso sovvenzioni nascoste perché altrimenti sarebbero inefficaci di iniziative culturali quali edizioni di libri, creazione di riviste, convegni, mostre, esposizioni, premi, riconoscimenti. Tra i compiti dei servizi segreti vi è la guerra psicologica, la diplomazia culturale, quella che dagli anni 90 si chiama soft power. Che cosa significa? Che si prende consapevolezza che una grande nazione non può essere grande soltanto per la forza economica, non soltanto per la forza finanziaria o industriale, ma anche per la forza culturale. Per questa ragione quindi in maniera nascosta i servizi segreti dei vari paesi finanziano quelle che sono delle iniziative culturali per promuovere l'immagine, lo stile di vita del proprio paese nei confronti di altri paesi, dei target che sono interessati a questa azione. Questo è stato realizzato per esempio dalla CIA negli anni 50. Negli anni 50 la CIA doveva contrapporsi da una parte all'Unione Sovietica e dall'altra doveva fare in modo che gli intellettuali europei non fossero affascinati dal marxismo e quindi doveva vendere culturalmente gli Stati Uniti. È il 22 ottobre 1995 e quell'articolo su Life sembra ormai lontano. Sono passati quasi 50 anni da quando Pollock ha ottenuto il successo. I suoi quadri sono esposti nei principali musei degli Stati Uniti ed Europa e la sua corrente, l'espressionismo astratto, è nota in tutto il mondo. Nel frattempo anche gli Stati Uniti hanno vinto la loro guerra culturale affermando la cultura americana come dominante in tutto il mondo occidentale. Il 22 ottobre del 1995 esce un articolo, questa volta su The Independent, che svela alcuni segreti della CIA. A fare le ricerche è una giornalista Frances Stoner Saunders e a parlare è Donald Jameson, un ex funzionario della CIA. Già negli anni 60 erano girate delle voci che sembravano uno scherzo, ma che da questa intervista sembrano trarre conferma. La CIA avrebbe usato l'arte contemporanea americana per combattere la guerra fredda. Donald Jameson dice che la CIA ha utilizzato l'espressionismo astratto come strumento di propaganda per valorizzare l'immagine americana dopo il macartismo, per rilanciare l'arte degli Stati Uniti e per combattere il realismo socialista. Per farlo ha influenzato mosei, mostre e giornali. L'espressionismo astratto potrei dire che l'abbiamo inventato proprio noi della CIA, dopo aver dato un occhio in giro e colto al volo le novità a New York, a Seoul. Scherzi a parte, avemmo subito molto chiara la differenza. L'espressionismo astratto era il tipo di arte ideale per mostrare quanto rigido, stilizzato, stereotipato fosse il realismo socialista di rigore in Russia. Così decidemmo di agire in quel senso. Gli artisti non erano al corrente del nostro gioco. È da escludere che tipi come Pollock abbiano mai saputo di essere aiutati nell'ombra della CIA, che tuttavia ebbe un ruolo essenziale nel lancio e nella promozione delle loro opere e nell'aumento vertiginoso dei loro guadagni. Insomma, Jackson Pollock e gli altri sono sempre stati all'oscuro di tutto. Avrebbero goduto del successo, delle mostre e delle recensioni senza sapere che dietro, di nascosto, c'era la mano della CIA a lavorare per loro, non solo per quello che avevano da dire, ma per quello che rappresentavano. Jackson avrebbe fatto parte della grande illusione della CIA, un'illusione in grado di influenzare la cultura e i gusti di un'intera generazione. Ma andiamoci piano, perché Jackson Pollock non è soltanto questo. Pollock è un grande artista che non si è limitato ad arricchire il vocabolario dell'arte, ma ha inventato un nuovo linguaggio. L'espressionismo astratto rappresenta il contrapunto sul versante americano delle poetiche informali, declinato anche appunto come matrice segnica, materica e gestuale e rappresenta un po' un clima di lavoro e una costellazione di aree di indagini. Pollock in questo ambito ha un rilievo fondamentale, è il protagonista e indiscusso della scena americana in questi anni, sia per la cifra stilistica, innovativa e dirompente, sia per il successo mediatico, istituzionale e politico, anche rispetto a una genealogia modernista greenbergiana che lo pongono sin da ora come esaltazione della mitologia dell'artista maschio, bianco e occidentale che verrà messa in discussione successivamente dalla critica femminista, ma che in ogni caso ha un potenziale sovversivo e un'apertura indubbiamente molto forte, soprattutto nella distruzione di quelli che erano i codici linguistici della pittura tradizionale. Jackson Pollock nasce nel 1912 a Cody, nel Wyoming, in un ranch in cui si allevano pecore. Suo padre è un agricoltore con una grande passione per il disegno, sua madre una donna energica e robusta, che si occupa delle faccende di casa. Jackson è l'ultimo di cinque fratelli e con il fratello maggiore, all'età di 18 anni, va a New York. Entrambi diventano allievi del pittore Thomas Hart Benton e con lui si avvicinano ad un'arte più contemporanea, immediata e diretta, che non si rivolge ad un'elite di pochi, ma arriva a tutti. Questi sono i suoi primi passi nel mondo dell'arte. Un percorso particolare, lontano dalle grandi accademie, che lo porta a rompere con gli schemi classici del passato. Durante una serata di Natale, organizzata dal sindacato artisti, Jackson conosce Lee Krasner, una giovane pittrice di Brooklyn, dal carattere molto forte. Ballano insieme tutta la serata, ma non si scambiano i numeri perché Jackson è troppo ubriaco. Non gli succede soltanto questo, naturalmente. In quegli anni vede due mostre molto importanti, due mostre di pittura stratta e surrealista, che lo colpiscono molto. Il suo percorso artistico non si conclude così facilmente. Nel 1939 inserisce la pittura all'interno di un percorso di psicoterapia jungiana, nel tentativo di smettere di bere. Seguito per tre anni, esplora profondamente il suo inconscio con il disegno, nel tentativo di estrarre tutte le sue fantasie e metterle sulla tela. In quegli anni inizia a farsi un nome nel piccolo mondo dell'arte new yorkese. Espone i suoi quadri alle mostre e in alcune gallerie, anche se le vendite sono scarse e le mostre, organizzate da Betty Parsons, non hanno molto successo. Per caso incontra di nuovo Lee che non si era dimenticata di lui e che con la scusa dei quadri lo invita a prendere un caffè. I suoi dipinti appartengono ancora al mondo dell'arte figurativa, anche se hanno già in sé il seme dell'espressionismo astratto e di una originalità che lo fa notare ai principali critici e galleristi. Uno dei primi a notarlo è uno degli amici e consiglieri più fidati di Peggy Guggenheim. Nel 1942 la ricca ereditiera Peggy Guggenheim aprirà a New York uno spazio espositivo, una galleria Art of the Century e nel 1943 ospiterà la prima mostra personale di Pollock. La galleria si caratterizzava per uno sperimentalismo allestitivo e per la proposta di artisti legati alla scena delle avanguardie storiche europee, quindi tutta una componente pittorica di matrice avanguardista che circolava in quegli anni a livello espositivo, non soltanto nella galleria di Peggy Guggenheim ma anche rispetto all'egemonia delle politiche espositive del MoMA. All'inizio Peggy Guggenheim è diffidente, non li capisce con i quadri, inclina un po' la testa per guardarli meglio e dice è pittura questa, non c'è assolutamente disciplina. A farle cambiare l'idea è Piet Mondrian che di fronte a quei quadri dice un'altra cosa. Non so Peggy, ho la sensazione che questi siano i quadri più eccitanti che abbia visto da molto, molto tempo, sia in America che in Europa. Europa non è un caso che Mondrian l'abbia nominata, siamo agli inizi degli anni 40 e la cultura artistica dominante è quella europea e a pensarlo è proprio l'America che ancora soffre di un complesso di inferiorità nei confronti del vecchio continente. I quadri di Pollock vengono esposti in piccole mostre, tutte dal carattere americano, assieme ai dipinti di Motherwell, Rochke, The Koenig e tanti altri. Faranno tutti parte della corrente dell'espressionismo astratto, l'avanguardia americana. Sono anni importanti per New York che sta diventando il cuore del mondo dal punto di vista politico e finanziario. Ma, come dirà un agente segreto della CIA qualche anno dopo? Che cosa sarebbe stata una grande potenza senza una sua grande arte? Non si può essere una grande potenza se non si è accompagnati da un'arte, come Venezia da tintoretto o Firenze da gioco. L'espressionismo astratto diventerà un'arma di propaganda per esibire la completa libertà di espressione che c'è negli Stati Uniti. E perché la CIA? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare indietro nel tempo, a Washington. E' il 1946 quando il Dipartimento di Stato americano allestisce una mostra, Advancing American Art, realizzata con i quadri di artisti d'avanguardia americani, che il governo ha comprato e ha mandato in giro per il mondo per mostrare la giovane cultura degli Stati Uniti. Di fronte ad uno di questi dipinti, il presidente Harry Truman esclama «Se questa è arte, io sono un 88», sancendo così la fine immediata della mostra. Ecco, questo è il clima culturale di quegli anni, soprattutto per quanto riguarda il governo. Inoltre, con la politica del senatore McCarthy, si comincia a parlare dell'America come del paese della caccia alle streghe in nome dell'anticomunismo. Insomma, un deserto culturale. Bisogna dare un segnale forte, che vada in senso opposto. Bisogna rilanciare l'immagine dell'America come quella di un paese democratico, vitale, aperto agli artisti e alle loro idee liberali. In questo viene incaricata la CIA, che rilancia l'immagine del paese attraverso i colori di Jackson Pollock e dell'espressionismo astratto. Torniamo indietro. Torniamo al 1943, l'anno di svolta della carriera di Jackson Pollock. Peggy Guggenheim non è del tutto convinta dei dipinti di Pollock, ma si lascia influenzare dal parere di Mondrian e accetta di esporre uno dei suoi quadri nella sua nuova galleria, Heart of this century. Sempre in quell'anno Pollock firma il suo primo contratto d'artista. Peggy Guggenheim gli affida la realizzazione di un morale per l'ingresso della sua casa. È importante quell'opera, perché per la prima volta Pollock si trova a confrontarsi con una tela dell'ampiezza di 6 metri per 2,5. Le cose vanno bene per Pollock. I galleristi cominciano a notare il suo lavoro e Lee è accanto. Nel 1945 Jackson e Lee si sposano e si trasferiscono a Springs, una cittadina vicino a New York. Ristrutturano la casa e Pollock può lavorare nel fenile, con Lee che si dedica assiduamente a disintossicarlo dall'alcol. È un bel periodo e in questo periodo, quasi per caso, Pollock scopre la tecnica dell'action painting, danzando attorno alla tela con i colori. Pollock elabora la tecnica del dripping in cui la tela disposta orizzontalmente diventa una sorta di teatro nel quale si svolge una danza rituale. Il dripping letteralmente significa sgocciolamento e è una modalità operativa che è connotata da un valore performativo, come la critica ha individuato in termini retrattivi e successivamente, in quanto quello che conta non è in sé l'opera, ma è il comportamento, l'azione che l'artista compie di fronte alla tela che calpesta, in cui gira intorno, perché in quel momento la tela rappresenta la realtà e il mondo. Quindi il soggettivismo esasperato che caratterizza anche stilisticamente il groviglio materico della pittura di Pollock trae dal dripping un elemento fondante che è anche le radici dell'happening, dell'azione e della performance. È proprio con quel modo di dipingere che Pollock raggiungerà il successo. Così nel 1949 lo contatta la rivista Life per quell'articolo che lo farà conoscere a tutti, non soltanto al mondo dell'arte, l'articolo che lo renderà famoso. All'epoca il presidente della rivista Life era Henry Luce, membro del consiglio di amministrazione del MoMA assieme a Nelson Rockefeller. In quegli anni si diffonde l'idea che l'arte dovesse essere sostenuta da grandi mecenati, un'élite che finanzi gli artisti, come succedeva nel Rinascimento, come quando Papa Giulio II commissiona la Cappella Sistina. Ecco, così fa la CIA. Si appoggia a privati, mostre, musei, festival, come un grande mecenate sponsorizza i suoi artisti. Tra i privati a cui si appoggia la CIA c'è anche il MoMA di Nelson Rockefeller, legato al servizio segreto fino dai tempi della guerra. Ma perché Pollock? Perché Pollock aveva delle caratteristiche fondamentali che erano proprie di questo movimento che veniva definito degli irascibili. Pollock ha origini modeste, non ha studiato né liste e quindi non è, come si direbbe oggi, un fighetto intellettuale, ma si è fatto da solo. Pollock era contro le norme. Pollock beveva e quindi Pollock rappresentava un po' la summa di quelle che erano le caratteristiche maschiliste del mito dell'American Way of Life di quel tempo. Jackson Pollock raggiunge una fama mondiale e le sue opere vengono esposte nei principali musei a partire dal MoMA di New York. Naturalmente è inconsapevole della politica della CIA a favore degli intellettuali. Una volta raggiunto il successo però inizia ad avere un rapporto contrastato con la propria opera. Dipinge sempre di meno e abbandona la tecnica del dripping, questo modo così particolare di colorare facendo cadere il colore direttamente sulla tela che l'aveva reso famoso. Intanto è diventata una celebrità in tutto il paese. La rivista Vogue fa un servizio su di lui in cui il fotografo Cecil Beaton, il fotografo della famiglia reale e il The Jet Set di Hollywood, ritrae giovani modelle accanto alle sue opere esposte alla Betty Parson Gallery. Forse però Jackson ha perso la sua tranquillità, quella che aveva trovato nel fienile della casa di Springs assieme a Lee. Ricomincia a bere ma lei non riesce a salvarlo. Jackson Pollock muore qualche anno dopo aver raggiunto il successo, l'11 agosto 1956. Jackson sta guidando ubriaco per andare ad una festa. Con lui in macchina ci sono Ruth Kligman, la sua amante, e Edith Metzger, una sua amica. Improvvisamente l'auto esce di strada e va a schiantarsi contro un albero. Ruth viene sbalzata fuori dall'auto e resta praticamente illese. Edith e Jackson muoiono sul colpo. Lee sta andando alla Biennale a Venezia. Si è preso un periodo di lontananza dal marito perché la convivenza era diventata impossibile. Dice che al momento dello schianto si è sentita dentro qualcosa e ha saputo che si trattava di Jackson. Così torna subito indietro. Jackson Pollock è morto dopo aver raggiunto il successo. Ha visto le sue opere esposte nei musei e girare per tutta l'Europa. È riuscito a sconfiggere l'opinione comune che voleva i suoi quadri come dei doodles, degli scarabocchi per bambini. Tutto questo però non è bastato per smettere di bere, godersi il successo e la vita con Lee, che ha sempre continuato ad amarlo e ha sempre continuato a darsi da fare per difendere la sua opera e la sua reputazione. L'illusione a volte ci inganna e a volte ci fa sognare. E forse è così che si sentiva Jackson Pollock dentro una grande illusione, un sogno fatto di innumerevoli cerchi di colori, dentro i quali è facile perdersi. Sicuramente l'intelligenza americana ha avuto successo, contribuendo a valorizzare l'immagine di un grande paese democratico con una grande cultura da esportare in tutto il mondo. Può sembrare che Jackson Pollock sia una vittima dell'illusione di fama e notorietà sostenuta dalla CIA. Ma Pollock naturalmente non è soltanto questo. È un grande artista che ha saputo dare vita alle proprie illusioni e alle proprie visioni, intime e nascoste, che ancora possiamo ammirare nei suoi dipinti.